Gillian, Gillian Foster, Sexy Star, eh tanti Sai quante pippe mi sono fatto con te? Per il momento nulla Sì No Del buio Magri Sì, le guardo ma non sono bisex Farlo all'aperto A volte sì, a volte no Spero non vecchia Oddio, l'estetista, un negozio, qualcosa della moda? Boh A volte sì, a volte no Fare felici le persone Tantissime, mi si è anche rotto un tacco durante uno spettacolo Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti